ok ciao ragazzi oggi vediamo un nuovo entry level samsung una versione 2020 post covip ma probabilmente era già in commercio prima della pandemia e siccome ai mani a tutto quello che ti serve per la pandemia oggi ve lo presentiamo e facciamo un bel unboxing passiamo al video su un galaxy a 01 l'entry level un piccolino della samsung per chi non ha grosse esigenze e per chi non vuole spendere grandi cifre se voi guardate nel link in firma troverete un paio di di telefoni e con dei prezzi accettabili detto questo secondo me si rivolge a un pubblico appunto che non ha grandi pretese ma vuole uno smartphone che faccia tutto quello che fanno gli altri smartphone e magari a chi la mamma non gli compra il telefono da 1000 euro e quindi si deve prendere per forza questo appunto passiamo comunque a questo discorso dell'unboxing partiamo con la scatolina la scatolina che contiene la solita garanzia e istruzioni dell'uso all'uso del telefono poi dentro la scatola c'è troverete così meno sapete già cosa incontrate quando acquistate galaxy a 01 ovviamente il telefono molto compatto non è un telefono esageratamente grande più piccolo della 10 che io lo vedevo un po come il competitore questo è un redmi 9 s not 9 s vedete che la differenza in dimensioni c'è abbastanza comunque adesso andiamo a vedere anche le caratteristiche del a 01 troverete le cuffie con filo samsung caricatore charge fast charger ma non sono proprio sicuro che sia fast clip per rimuovere la simba e cavetto micro usb per la ricarica tanto che si accende del samsung galaxy a 01 andiamo a vedere che cosa offre il nostro entry level samsung ovviamente i nuovi vi infiniti display infiniti display sarebbe praticamente il display con notch le dimensioni sono veramente compatte ottimo per chi ama delle dimensioni non eccessive quindi adatto appunto anche a chi non vuole un telefono che sia troppo grande da tenere in mano il design è abbastanza semplice con senza grandi fronzoli ma comunque non brutto in linea con i tempi moderni comunque appunto con notch doppia fotocamera non gli manca niente per dire alla 10 non ce l'aveva doppia fotocamera allora andiamo partiamo col display il display è da 5.7 in orizzontale con risoluzione hd plus quindi non male il processore è un otta core un qualcomm da 1.9 gigahertz e un quad da 1.45 gigahertz allora la ram del nostro piccolino 01 quindi appunto come aveva detto prima 5.7 pollici ottimo per chi non vuole un telefono troppo ingombrante troppo grosso da 2 gigahertz quindi a una ram non è eccessiva però un buon processore appunto come abbiamo visto prima il touchscreen ha una risoluzione di 1560 x 720 pixel quindi direi che per il prezzo la qualità non è poi così scadente anche ricordare che questo samsung galaxy a 01 è un prodotto con pochi competitor per ciò che riguarda la mulcia la multimedialità la fotocamera a ben 13 megapixel che permette di scattare foto di risoluzione da 4.128 per 3.196 pixel registra video in full hd quindi con la risoluzione da mille 1920 x 1080 pixel lo spessore quindi questo è di 8,3 mm il contenuto quindi rende questo telefono fondamentalmente qualità prezzo un prodotto interessante da non snobbare assolutamente soprattutto per il prezzo della carina è che sì è vero che a 16 giga di memoria ma ha anche la possibilità di essere ampliata quindi in espansione arrivare a 512 giga con una micro sd ovviamente la densità del pixel comunque da 301 ppi non male perché stiamo parlando il telefono che non costa neanche 150 euro è la fotocamera era 13 megapixel più 2 mp quindi la risoluzione quella che vi dicevo prima la fotocamera frontale invece è da 5 megapixel in fdo quindi in entrambe le soluzioni offre la possibilità di fare l'effetto bokeh l'effetto bokeh è la sfocatura sullo sfondo video in full hd 30 fps quindi dei video di buona qualità e diciamo che forse la pecca se la vogliamo chiamare così è la batteria una batteria al litio da 3000 miliampere oggi rispetto alle altre che ci sono in giro forse un po piccolina però anche qui è tutto da dire dicevo prima un telefono di questa fascia di prezzo con queste caratteristiche ha pochissimi rivali nel senso che più o meno per lo stesso prezzo forse qualcosina e meno si può comprare redmi 7a ma che non è così bello esteticamente comunque è un telefono che ha una bella presenza uno ti vede comunque diceva che bel carino carino ma che bel telefonino che c'è quello lì quindi consigliato sicuramente a chi non vuole spendere troppi soldi allora in sostanza a chi è rivolto questo samsung galaxy a 1 è rivolto a un pubblico giovane che si approccia a il telefonino diciamo per la prima volta o comunque a chi non vuole spendere una cifra eccessiva per il telefono anche se non è più tanto giovane come me è di fatto è quello la qualità è veramente buona per il prezzo che si paga e secondo me in giro così carino allo stesso prezzo non c'è niente bisogna andare a spendere qualcosa di più quindi in sostanza è un buon telefono lo proverò un pochino di più lo attivo lo proverò un pochino di più e ve lo dirò in un prossimo video comunque detto questo ci vediamo al prossimo video e lasciatemi nei commenti che cosa ne pensate di samsung galaxy a 01 ciao